Combattere il caporalato come si combatte la mafia, innanzitutto aggredendo i patrimoni, la reclusione è un deterrente relativo, ripete infatti il governo che sta mettendo a punto le nuove misure. Norme per colpire la ricchezza accumulata sfruttando il lavoro degli scavi delle campagne, 12 ore per pochi euro di salario, 4 le linee guida, si comincia con la confrisca dei beni e dei prodotti frutto del reato e di tutti gli strumenti utilizzati per ottenere la ricchezza, come i veicoli utilizzati per accompagnare i lavoratori nelle campagne o le strutture destinate ad accoglierli durante la notte. Poi giro di vite sul reato di intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro, ma anche sanzioni per tutti i soggetti coinvolti nella catena dello sfruttamento, comprese le aziende costituite in forma societaria o associativa. Va sicuramente mantenuta una linea dura e gli emendamenti sulla confisca e sul risarcimento delle vittime sono sicuramente una cosa che dobbiamo approvare nel più breve tempo possibile. Norme che mettono in parte d'accordo anche le opposizioni, per se le nuove misure vanno nella giusta direzione, anche se era meglio approvare subito un decreto legge ad hoc e il Movimento 5 Stelle aggiunge. Le morti nei campi si potevano evitare applicando gli strumenti già disponibili, quindi gli ispettori del lavoro, delle ASD, delle forze dell'ordine e il potenziamento per quanto riguarda il centro degli impieghi. Al governo diciamo, ok nuove leggi, ma se queste poi non vengono applicate, resta tutto carta bianca. Intanto al Senato la commissione di inchieste e infortuni sul lavoro ha iniziato un'indagine conoscitiva sul fenomeno. Dalla prossima settimana il via alle audizioni.